Ciao, oggi vediamo Mune Kataw. In Mune Kataw ti presenterò alcune varianti di Mune Kataw, poi Fusegi e Nogare Kataw. Buona visione! Bene, oggi vediamo Mune Kataw. Braccio destro sotto la sua spalla, braccio sinistro sotto la sua testa, poi vado a chiudere le mani e vado a mettere la sua spalla e vado a mettere la sua spalla. Ciao, oggi vediamo Yoko Shio Gatame. Forma tecnica, come controllare Yoko Shio Gatame, quali sono i punti importanti per avere un buon controllo di Yoko Shio Gatame, i Fusegi relativi e Nogare Kataw. Ciao, oggi mostro Kata Hajime. Vedrai la forma base, alcune angolazioni per vedere al meglio la tecnica, e i Fusegi dei Kataw. Buona visione! Bene, spero che sia stato tutto chiaro, l'appuntamento del secondo video di Kata Hajime, dove ti mostrerò a Yoko Shio Gatame, dove ti mostrerò a Yoko Shio Gatame, Raraku e Kai Shio Gatame. Buongiorno! Buongiorno! Grazie a tutti.